Definizione veloce, ovvero risolutore di problemi tramite codice. In parole povere, lo sviluppatore web. Se ti piace risolvere i problemi in generale, ti senti un po' un nerd, ti piace trascorrere tantissimo tempo davanti allo schermo e ti chiedi spesso cosa c'è dietro il funzionamento di un computer, di un'applicazione o di un sito web. Bene, se hai queste caratteristiche, potresti diventare uno sviluppatore web. E in questo video ti spiegherò come fare. Ciao, io sono il professor Marco Doria e sono il direttore di Digital Campus, una business school che eroga master, i migliori master digitali che puoi trovare in Italia. Ma entriamo nello specifico di cosa fa un web developer o uno sviluppatore web. Stiamo parlando di un professionista dell'informatica che si occupa di progettare, sviluppare e mantenere siti web e applicazioni web. Per farlo deve utilizzare dei linguaggi di programmazione e dei framework. I linguaggi più comuni posso dire che siano HTML, CSS, SAS, PHP e JavaScript. Ce ne sono poi molti altri, moltissimissimi, anzi no, solo molti. E poi ci sono i framework. Devi immaginarli come se fossero delle piattaforme, delle strutture che tramite le loro librerie aiutano lo sviluppatore a non diventare matto, quindi gli agevolano la vita. Ma di questo parleremo tra poco. Cerchiamo adesso di capire quali siano le attività svolte da un web developer. In primis c'è la parte di progettazione, quindi progettare un'idea che parte dalla testa di una persona è riversarla tramite il codice sul web. Questo potrebbe essere un sito web di una azienda, quindi un sito web vetrina, una cosa abbastanza semplice. Oppure una web app molto complessa, magari un software SAS. Facciamo esempio, magari uno come fatture in cloud che non ci sponsorizza, però lo usiamo come esempio. Male non gli fa e non fa male neanche a noi. Quindi uno è semplice, l'altro è un po' più complesso. Poi ci sono le applicazioni sul telefono che sono un'altra cosa. Quindi di base deve saper dire al cliente come si realizza un progetto. Quali siano le tempistiche, le risorse che servono anche come team e quali linguaggi e framework dovremo andare a utilizzare. E poi da qua, una volta accettato il lavoro, c'è la parte di sviluppo. Chiaramente se una situazione semplice come la progettazione di un sito web vetrina di un'azienda richiederà magari una persona soltanto, mentre nel caso di fatture in cloud, nel caso di Netflix, servirà un intero team. Lo sviluppo è una fase che non termina mai. Chiaramente noi facciamo nascere il nostro bambino, lo mettiamo al mondo, lo facciamo crescere e continuiamo a nutrirlo e a svilupparlo nel tempo. Quindi manutenzione e aggiornamento sono fasi comuni che vanno avanti, chiaramente tenendo in considerazione il grado di complessità del progetto. Il compito del programmatore è garantire che rimanga aggiornata, funzionale, sicura e quindi che siano fatti tutti i test e i debugging possibili. Quindi cerchiamo di eliminare i malfunzionamenti e i bug che si creano chiaramente durante la progettazione. C'è una parte non obbligatoria, ma bisogna tenerla in considerazione, di ottimizzazione SEO, che è l'ottimizzazione per i motori di ricerca. Non sempre lo sviluppatore web si occupa di questa parte, spesso è il reparto marketing che lo fa. Però chiaramente parlando di un progetto semplice che deve essere poi indicizzato e posizionato sui motori di ricerca, dovremo avere delle basi di ottimizzazione SEO, quindi sapere come strutturarlo per far sì che sia gradevole ai motori di ricerca di Google. Poi c'è una parte molto importante che è la progettazione anche dell'interfaccia e dell'esperienza utente, ovvero stiamo parlando della UI e della UX. Anche qua spesso c'è una figura esterna che si occupa di questo aspetto, quindi non è lo sviluppatore. Sempre considerando l'entità del progetto, su un progetto grande ci sarà una figura appositamente messa lì che riesce a definire quale sia la migliore esperienza dell'utente, oppure nel caso di un piccolo progetto sarà lo sviluppatore stesso a definirlo. Fondamentalmente i compiti sono questi. Ora vediamo però dove lavora uno sviluppatore web. In generale potremmo dire che è collocato nelle software house, ovvero le compagnie che fanno software. Per esempio Fattore in Cloud avrà il suo ufficio con il suo team di sviluppatori ed è una software house. Potrebbe lavorare una web agency, quindi magari un'agenzia di comunicazione che ha appunto gli sviluppatori interni che si occupano sia di progetti più piccoli come creare i siti vetrina delle aziende e magari qualcosa di un po' più complesso. E poi ci sono i team di sviluppo presso le aziende. Immaginiamoci Netflix, noi la immaginiamo come un'azienda di produzione video. In realtà è una software house che ha creato un software, una web app, ok? Chiaramente al suo team di sviluppo interno di persone che collaborano e che fanno sì che Netflix sia disponibile per tutti. Lo sviluppatore può lavorare sia in ufficio che è dislocato da un'altra parte in modalità remote working che può essere remote o full remote, quindi lavoro sempre e solo da casa. Sempre di più le aziende danno questa possibilità e sempre di più gli sviluppatori chiedono questa possibilità. Perché è anche comodo siccome è un lavoro che comunque si può gestire tranquillamente in posti in contesti differenti può far comodo per esigenze, spese eccetera lavorare da casa. Io personalmente non sono d'accordo con il remote working perché penso che sia un'atrofia alla persona ma di questo magari possiamo fare un video a parte. Chiaramente ci sono persone che hanno necessità particolari, esempio accudire qualcuno che ci mancherebbe altro, va benissimo la soluzione remote e full remote, meno male che esiste, ma in altri contesti penso che possa solo far male alle persone, far male alla società e far male alle aziende. E in tutto questo lo sviluppatore può decidere se lavorare come freelance o come dipendente. Tantissime persone fanno il freelance perché si trovano bene a prendere più progetti, con aziende diverse, cambiare eccetera, essere comunque liberi. E invece ci sono tanti sviluppatori che preferiscono comunque far parte di un team solido e rimanere in azienda e fare una carriera. Ok, tutto bello ma in qualche modo si dovrà diventare web develop e vediamo come si fa. Allora partiamo da un diploma, magari un diploma di un istituto tecnico ti può aiutare ad avere la mente già pronta, ma comunque va benissimo anche un liceo. E poi chiaramente sarebbe bene fare una laurea che possa essere magari in ingegneria informatica. Attenzione, la laurea in ingegneria informatica non è che ti fa uscire automaticamente dalla università con le capacità di programmazione, dovrai fare un po' di un percorso a parte, però comunque avrai una solida base che è quello che poi serve. E poi ci sono i master e i percorsi accademici di specializzazione. Il miglior percorso accademico, te lo dico per esperienza perché ne sono il direttore, che è Accademia Code. In nove mesi diventi un programmatore full stack. Attenzione, cosa significa full stack? Semplicemente che hai capito come si lavora nell'ambiente di front end, che è la parte che si vede davanti, e nell'ambiente di back end, che è la parte che sta dietro. Il front end è quello che vede l'utente, il back end non si vede, lo vedono solo i programmatori. Per farla facile, eh. In code hai assistenza 7 su 7, un tutor a disposizione e la possibilità di studiare negli orari che tu ritieni più opportuni. Questa è la miglior condizione per imparare questo mestiere dai 9 ai 12 mesi. Difida da corsi più brevi, perché ti danno infarinature. Per fare questo mestiere l'infarinatura non serve. Qua non dobbiamo essere infarinati, ma dobbiamo essere capaci. Quindi per farlo bisogna studiare in maniera più approfondita e ti serve più tempo. Il percorso in code ti assicuro che ti farà uscire dall'accademia come uno junior che può iniziare questo mestiere. Garantito gli strumenti sono quelli. Lo so perché abbiamo tantissimi studenti e tantissimi studenti che iniziano a lavorare a metà percorso. Un motivo ci sarà. Chiaramente non è un percorso semplice, è un percorso impegnativo, però ti dà un gran risultato. Se vuoi maggiori informazioni vai su accademiacode.com È finito il placement dell'accademia, possiamo parlare di esperienza. Questo è un mestiere che, sì, devi avere un'ottima base, devi aver fatto un'accademia pratica che ti dia la possibilità di lavorare sui linguaggi e sui framework, ma da lì in poi è lavoro. Quindi dovrai passare ora davanti al monitor. Questo però ci introduce al mercato del lavoro. La figura professionale del web develop va di pari passo con l'aumento della digitalizzazione all'interno dei processi aziendali. Quindi possiamo dire con tutta certezza che sta diventando una delle professioni digitali più ricercate. Se guardiamo l'ultimo report del sistema informativo Excelsior, si stima che tra il 2020 e il 2024 le imprese avranno bisogno di circa 1,5 milioni di occupati in possesso di competenze digitali. Tra queste la maggior parte sono tecnici del software, quindi sviluppatori web. E ti assicuro, essendo il direttore di un'accademia di coding, che ogni santa settimana noi riceviamo richieste di programmatori da parte delle aziende. Tante aziende che cercano e pochi programmatori. L'equazione è facile ed è a tuo vantaggio se ti piace questo mestiere. Parliamo però anche un po' di soldi, che so che è una cosa che ti piace. Allora, come entry level? Gli stipendi vanno da 1.400 a 1.800 euro netti. attenzione, non è che domani mattina esci e prendi 1.800, ok? Tu entri come junior, potrai fare il tuo periodo di avviamento, eccetera, eccetera. E comunque non ci metterai troppo a arrivare a 1.400 e a 1.800, chiaramente con l'impegno. Occorreranno circa 3 anni per diventare bravini, quindi con il diminutivo. Perché ce ne vorranno almeno 10 per diventare un mini senior, ovvero qualcuno che comincia a capire qualcosa. C'era una leggenda che diceva che ci vanno 10 anni per capire qualcosa e 20 anni per capire che non avevi capito niente. Lo stipendio di un senior può variare da 3.500-4.000 euro netti di media, ma può arrivare a cifre anche 7-8.000 euro nette al mese. E se guardi magari il mercato americano potreste arrivare anche a 100-150.000 dollari l'anno, che non è uno stipendio così difficile da prendere. Ma attenzione, ci tengo a fare una precisazione molto importante. Non farti prendere dall'entusiasmo dei guadagni facili, perché non potrai fare questo mestiere se in testa hai solo i soldi. Se non ti piace programmare, non ti piace stare davanti al computer, non ti piace risolvere problemi, lascia perdere. Non riuscirai mai a diventare nemmeno un junior. Figurati un middle o un senior. Quindi questo mestiere lo devi prendere molto seriamente, ok? Non è un mestiere facile, è un mestiere di difficile ingresso, ma dal momento che riesce a entrare perché riesce a fare qualcosa, non perché non ci sia lavoro, ma perché è difficile imparare, una volta che però hai imparato, i soldi saranno una conseguenza. Ma entriamo nel dettaglio della professione. Cosa serve davvero come hard skills per essere uno sviluppatore? Allora, in primis, l'abbiamo detto, sono i linguaggi di programmazione. Dovrai avere una solida padronanza dei linguaggi base, che stiamo parlando di HTML, CSS, SAS, PHP e JavaScript. Poi ce ne sono molti altri, ok? Ti potrai specializzare in un linguaggio nello specifico, in Python. Ti piace il machine learning, ti piacciono gli algoritmi, ok? Però questi che ti ho accennato sono la base. E poi ci sono i framework e le librerie, come ti dicevo prima. I framework sono quelle piattaforme che tramite le librerie associate ai linguaggi hanno il compito di renderti la vita più semplice. Quindi Laravel, Bootstrap, Rx, JS, Angular, oppure React, Vue.js, Django, eccetera, eccetera. In tutto questo devi anche essere bravo con i database, quindi MySQL, diciamo, nel mondo del database relazionale, oppure i non relazionali come Mongo, DB, eccetera, eccetera. Devi essere bravo con Git. Git è uno strumento che serve sia per far comunicare i nostri programmatori, ma anche per avere la possibilità di intercettare una cronologia di progettazione. Quindi quando si lavora in team bisogna saper usare Git. C'è la parte di responsive design, che è anche molto importante, cosa che tanti danno per scontata, ma comunque bisogna saper programmare sia per uno smartphone, sia per un iPad, sia per un monitor di due metri. E ricordiamo la parte di ottimizzazione e UX design, anche se non è proprio fondamentale per questo mestiere, però bisogna saperne. Poi c'è tutta la parte di cyber security, le sicurezza web, per dire se devi installare un firewall o interfacciarti con un firewall, devi fare in modo di saperlo fare, soprattutto perché dal momento che ricevi un attacco, poi non passerai delle belle ore. Io ne ho ricevuti parecchi negli anni, vi assicuro che ho passato dei brutti giorni, quindi cyber security tutta la vita. E parliamo poi delle soft skills. Anche se il programmatore è visto come un orso che non ha emozioni e sentimenti, chiaramente stiamo parlando di un mestiere dove ho a che fare con problemi. Infatti la prima soft skill che mi viene in mente è il problem solving. Gli sviluppatori web sono le persone che dalla mattina alla sera risolvono problemi, che si tratti di individuare un bug nel codice, o che si tratti di trovare un modo per implementare una funzionalità, oppure se è spaccato tutto come faccio, ok? Quindi questa cosa fa parte del mestiere. Poi c'è il team working. Come abbiamo detto, gli sviluppatori sì sono orsi, ma chiaramente sono orsi che devono stare in mezzo a un team, perché se sei dentro Netflix, dentro fatture in cloud, chiaramente c'è il reparto marketing, il reparto amministrazione, il cliente, l'utente finale, il customer service, e bisogna parlare con queste persone. E sì, lo so, lo sviluppatore vorrebbe non parlare con nessuno, però deve farlo. Poi c'è la gestione del tempo. Gli sviluppatori lavorano su un progetto, spesso su più progetti, e bisogna avere a che fare con un project management abbastanza complesso. Quindi bisogna rispettare scadenze molto precise, cosa che non fa nessuno. Però bisogna essere abili nel saperlo non fare. Chiaramente c'è la precisione, è un mestiere dove bisogna essere precisi, è anche un mestiere dove bisogna essere flessibili. Perché flessibili? Ho visto tante persone negli anni smettere di fare questo mestiere per una cretinata, ovvero per il fatto di non aver voluto fare un aggiornamento, un upgrade. Stiamo parlando di informatica e tecnologia. Va veloce come un treno. Bisogna essere veloci, perché le cose cambiano, bisogna cambiarle. Chiaramente non è che si cambia ogni giorno, però arriverà un punto che magari è un linguaggio obsoleto. Quindi che fai? Devi imparare un altro. Quindi quali sono gli ostacoli maggiori di questo mestiere, Marco? Gli ostacoli maggiori sono diventare programmatore, perché non sarà facile. Quindi dovrai avere una solida base, aver fatto un percorso, come dicevamo prima, tipo quello di Accademia Code, che ti permette di lavorare sui linguaggi e sui framework. Poi dovrai inserirti nel mondo del lavoro e fare passare tanta di quell'acqua sotto i ponti di occhi sul monitor che la metà basterebbe, anzi non basterebbe. E puoi continuare sempre a migliorare. È un mestiere così. Quindi è difficile diventare senior. Ma se ci riuscirai, arriveranno oltre che un sacco di soldi anche un sacco di proposte di lavoro. Tutti ti vorranno. Ma arrivare lì non sarà facile, te lo garantisco. Poi non è neanche una cosa che non è possibile fare. Con un po' di pazienza e lavoro ci si arriva. Ma se vuoi prendere questo mestiere solo per i soldi, come ti dicevo prima, è meglio che lasci perdere perché non lo potrai mai fare. Aggiungiamo anche che è un lavoro stressante. Sei sempre nei problemi, ok? La tua testa continua a lavorare anche quando stacchi. Infatti bisogna diventare bravi a staccare. Però stiamo parlando di un mestiere che sarà sempre più ricercato, sarà sempre più importante, sarà sempre più pagato e che comunque dà molte soddisfazioni perché dà un'idea portare tutto questo nel codice chiaramente è come veder crescere una propria invenzione. Detto questo, se ti piace l'idea di diventare uno sviluppatore sulle maniche e avanti tutta perché questo è il momento forse per fare quel cambio che ancora non hai avuto coraggio di fare. Ricordati che la disoccupazione non esiste, esistono solo delle competenze che devi ancora acquisire. Se questo video ti è piaciuto mi raccomando un piccolo like, se vuoi lasciami un commento, scrivi mi piacerebbe approfondire questo mestiere o quell'altro. Cercherò di accontentarti con un altro video come questo e ti aspetto alla prossima puntata. Ciao!